Dottore Bruno Parisi, i giudici della Cassazione con la sentenza 317 depositata ieri hanno ufficialmente attestato che lei per la giustizia italiana è un falso, un bugiardo, un ipocrita, un malvagio e nel 2011 l'allora Presidente del Consiglio Sebastiano Foti e gli altri sei firmatari consiglieri d'opposizione avevano il pieno diritto di scriverlo nel loro manifesto murale visto che lei non ha mantenuto la promessa fatta durante la campagna elettorale del 2008 dove avrebbe dichiarato di rinunciare all'indennità di carica. I giudici hanno visto giusto in tutta questa vicenda oppure hanno preso una cantonata a suo avviso? A mio avviso hanno preso una grande cantonata perché non hanno a mio giudizio letto bene le carte che erano state ben fatte nel primo procedimento a trappitello da un giudice catanese in cui aveva indagato realmente su tutti i fatti. Perché? Semplice, io in più comizi e per due anni assieme alla mia giunta costituita da cinque assessori abbiamo rinunciato per come promesso allo stipendio e abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare per evitare il dissesto. Dissesto a cui ci aveva portato dici anni di amministrazione Foti. Ricordo con assoluta certezza che il primo consiglio che mi diede l'allora ragioniere Bonanima Saglimbeni quando vide quello che ci avevano lasciato disse sindaco facciamo il dissesto se ne vanno a casa i dipendenti quelli che non hanno titolo e noi procederemo per cinque anni regolarizzando le situazioni. Io gli disse allora che il dissesto dovevamo evitare e per evitarlo rinunciamo a due anni allo stipendio. Addirittura ricordo che lo stipendio o indennità di carica per i dieci anni precedenti era un livello che io riportai al minimo per un motivo ben preciso perché il presidente del consiglio mio avversario, il Foti, pretendeva di essere pagato nonostante noi per due anni rinunciamo allo stipendio e lui pretendeva il pagamento che noi allora rimanendo mettendo il più basso abbiamo liquidato per una somma di circa 10 mila euro. Per cui mentre sindaco e giunta rinuncia allo stipendio il presidente del consiglio avversario, il Foti, piglia circa 10 mila euro di stipendi a mio giudizio mai meritati e questa è una cosa. Poi andiamo ai manifesti, dunque in due anni, i primi due anni che poi sapete come finì, che fu mandato a casa il calcio nel culo come ho sempre detto dall'assessore regionale del presidente del consiglio perché non ha voluto mai approvare il bilancio perché ci doveva fare ostruzione. Mi fece almeno, qua io ho le copie di 5, 6 manifesti, qua ce ne sono qualcuno di quelli dove diceva incapace, zero titoli, copiò l'illustre allenatore, cioè mi faceva ridere, zero titoli, cassa e questi manifesti con la sua esplicita malvagità reale, politica o altro, me li faceva a Natale e a Pasqua. Quando arriviamo al quinto, sesto manifesto, questi manifesti io non risposi mai perché ritenevo che le nostre risposte erano date dai fatti, i fatti quali erano? Che abbiamo in quegli due anni con i volontari, senza una lira, ripulito un paese, riportarlo alla normalità dopo dieci anni, come io dico sempre, di gestione del piccolo Attila dove passava distruggeva il tutto. Quindi arriviamo all'ultimo manifesto, quello per cui lo mi fa falso, bugiardo, ipocrita e mette le somme che pigliamo dopo due anni di totale gratuità e mi fa un manifesto dove dice falso, bugiardo, eccetera, eccetera, e mette le somme che si pigliano dopo tanti sacrifici. Io perché rimisi lo stipendio? Perché avevamo risanato i conti, stavamo procedendo bene e allora ritenuto giusto che gli assessori che lavoravano dalla mattina alla sera gratis venissero retribuite per per poco. Certo, il tanto che voi avete più volte ribadito durante la campagna elettorale, ci sono anche le immagini che anche gli ogni notizia più volte è ripreso. Assolutamente, io nel 2011 dichiarai tutte le cose che se la Cassazione avesse visto o quantomeno letto qualche cosa avrebbero capito che il sottoscritto aveva fatto più del suo dovere, più del suo dovere. Ci eravamo fatti un mazzo così per riparare danni provocati da questo soggetto simpaticissimo. Ricordiamo che anche in quel periodo, lei citava appunto il 2011, l'allora Presidente del Consiglio, ma assieme anche ad altri componenti, sia l'ex altro Presidente, avevano inoltrato la richiesta al Comune di avere i soldi. In tendità che loro avevano più volte dichiarato pubblicamente anche gli ogni notizia di non prendere. Se dichiara una cosa durante la campagna elettorale e poi ne fanno un'altra. Mentre io ho dichiarato quello che era giusto dichiarare e ho fatto quello che era giusto fare. Comunque arrivano anche le lettere del Sindaco che voleva 100 mila Euro che non era riuscito a pigliare nei dieci anni di amministrazione. Soldi che comunque non aveva neanche messo in bilancio, quindi non erano dovuti. Perché veda, quando altre due persone fece la stessa richiesta come l'attuale Sindaco, disse all'Avvocato che ci dovevamo difendere anche perché le somme che loro avevano presi in quei dieci anni non erano mai state previste in bilancio e quindi le avevano prese da altri capitoli, cosa totalmente illegittima. Quindi non solo non dovevano essere pagati per i danni fatti di quei dieci anni, ma dovevano restituire quelle somme che indebitamente avevano preso. Così anche come il gettone di presenza. Sì, perché poi tra le altre cose… Allora scopri un altro altarino. Sì, un altro altarino qual era? Che questi soggetti, oltre a pigliarsi lo stipendio Sindaco Assessori, ricordo che mi fece notare la nuova segretaria che poi si insediò e il ragioniere, si pigliavano il gettone di presenza delle giunte. Cioè praticamente non si può pigliare sia l'una che l'altra cosa. Lo stipendio se tu pigli l'indennità di carico non puoi pigliare le somme delle giunte che fai. E questi invece riuscivano a fare tutte e due le cose. C'è una cosa totalmente assurda dove la procura della Corte dei Conti dovrebbe indagare. E invece mi ritrovo ad essere non condannato, ma a respingere una mia richiesta dalla Cassazione, che è il più alto grado. Perché chiaramente io, rendendo di essere nel giusto più assoluto, vado in Cassazione. Quindi di aver assorbito un'ingiustizia, insomma. Perché ritenevo appunto, non solo avevamo risonato i conti, avevamo fatto tutto quello che era giusto fare, non avevamo preso lo stipendio per come promesso, arriviamo in Cassazione a Roma dove non leggono le carte e dicono a ragione il cittadino, ma io su questo non ho dubbi. Se un sindaco non fa quello che promette è giusto che sia non insultato, perché l'insulto è una cosa da maleducati, che sia messo nella realtà dei fatti. Con quanto è la critica politica come lei diceva, la critica. Poi qua si tratta, parlando con altri colleghi, dici, ma che sto, che è un collega nei tuoi confronti, come si è permesso di fare questo? Perché è un maleducato. Dico io, a me francamente, questa cosa non è che... Però un maleducato soltanto può fare quello che ha fatto lui e continua ad essere un maleducato. Comunque, ritornando all'argomento, questo è quello che noi abbiamo realizzato in cinque anni, che è documentato, perché la mia assessore Nuccia Foti, in quel frangente che avevo deciso di non candidarmi più, mi disse facciamo una sintesi di quello che abbiamo fatto così resta gli altri. Allora fecemo questo piccolo manifesto in cui veniva dettagliatamente descritto tutto quello che avevamo fatto, i debiti supergiù che avevamo pagato fatti da quell'amministrazione e quello che lasciavamo, tipo il centro di urno, la sistemazione, tipo il parcheggio davanti al centro di urno, tipo la strada che porta al cimitero, tutte quelle cose le abbiamo lasciate, noi i soldi per farle, la forestale, il gruppo di protezione civile, tutta una serie di cose, il lungomare rifatto con soldi nostri, c'è tutta una serie di cose positive, che la gente chiaramente dimentica, non ne frega niente a nessuno, però qua sono fatti atti e possono ognuno andare a vedere e a verificare quello che abbiamo fatto. Per cui ritengo che questa sentenza della Cassazione, in questo caso, dove si tratta di un'attività svolta in un piccolo paese, semicollassato da una vecchia amministrazione, che con i sacrifici abbiamo riportato alla normalità, adesso non so a che punto è, perché normalmente 5 anni di gestione di questo soggetto, vedremo quello che troverà il successore. Io allora, soddisfatto dei miei 5 anni, decisi. Nel 2013 lei quando poi pensò di non ricandidarsi aveva lasciato comunque una gestione attiva. Assolutamente, assolutamente. Mi pare c'era un avanzo di cassa. Di circa 250 mila Euro, l'avevamo risanato, perché il secondo anno, quando abbiamo fatto il nostro bilancio, il primo bilancio falso che avevamo avuto da loro, era più 60 mila Euro, facemmo il nostro bilancio reale e scendevamo di 430 mila Euro. Con i nomi dei conti, qua parliamo di giudici, corte dei conti, a Palermo le abbiamo portate, perché abbiamo fatto una differenza dal nostro insediamento e da quello che avevamo trovato. Se avessero guardato le carte anche i giudici della corte dei conti, avrebbero dovuto pigliare i provvedimenti, secondo me, per i danni fatti da questo soggetto. Invece me lo ritrovo ad essere insultato e poi la Cassazione dà quasi ragione a un soggetto che ha fatto danni e continua a fare danni. Benissimo, questa è la realtà di una giustizia che a mio giudizio, non voglio esagerare, però è chiaro che un giudice dovrebbe effettivamente, prima di esprimere una sentenza, conoscere i fatti. Leggere le carte, insomma. L'amministrazione di Foti sta per concludersi, lei ha più volte espresso un suo parere, un bilancio più che negativo, voi avevate ereditato 10 anni di Foti, una situazione disastrosa che poi avete portato in attivo, avete lasciato a questa amministrazione sempre di Foti una situazione più che positiva e adesso i fatti, le carte, le attestazioni anche del tesoriere e quant'altro dicono che il Paese è di nuovo in recessione e questa è un'eredità che naturalmente andrà poi a scontare la nuova amministrazione che andrà a insediarsi nel giugno 2018, tra qualche mese. Quindi lei, il suo giudizio resta e rimane negativo. Sì, ma il giudizio non è un mio giudizio formale, si debbono guardare i fatti, esprimere dei giudizi. I fatti quali sono? Che nonostante siano andate in pensione più persone, nonostante la nostra grande attività nel riscuotere le tasse, siamo tornati al punto di partenza. Presumo che i danni che si lascerà questa volta siano inferiori a quelli fatti nei 10 anni pre mia amministrazione. Però è chiaro che si presenta, si candida, vince le elezioni per poche volte, fa danni, litiga con tutti, la cambia assessori, ora faccio questo, non fa nulla e per giunta ci ritroviamo a riparare sempre le sue, come definirle. Non ultimo la grande difficoltà anche nell'approvare il bilancio che a fine 2017 è diventato più una sorta di consuntivo. Poi leggo su qualche giornale locale, tipo la gazzetta, finalmente parte la mensa scolastica, siamo a gennaio, con un'enfasi come se stessero facendo, la mensa partiva a ottobre, avevamo regolarizzato tutto, i trasporti, le scuole, avevamo rifatti i tetti di tante scuole, avevamo previsto un impianto di energia solare, ci avevamo fatto tutte quelle cose che avrebbero consentito a un sindaco normale di continuare bene e di avere un utile da poter utilizzare per fare delle altre cose, invece che facciamo? Doppio senso sul lungomare e quindi togliamo il caos dalla nazionale abbonendo la pista ciclabile, abbandoniamo tutti i progetti importanti, assa di circolazione, acquedotto tartale, e poi andiamo anche le opere pubbliche che effettivamente non sono nel migliore delle cose, ma l'elenco sarebbe un pochino lungo. Sì, lasciamolo andare perché ci sarebbe da scrivere. E sotto gli occhi di tutti ormai i cittadini di Fucci hanno ben visto e appreso. Non so fino a che punto, perché poi in fin dei conti ognuno interessa la solita cosa del proprio pianerottolo, però penso che ci siano persone talmente intelligenti da capire i danni che ha costituito la presenza di questo soggetto al Comune di Fucci. Non ultima quella della denuncia, della cosa. Se noi abbiamo risanato i conti negli ultimi cinque anni, negli anni in cui io, è perché tutti hanno contribuito col proprio lavoro e col proprio sacrificio. al di là del tesserino, firma, timbra, che poi ha fatto un'altra cosa a mio giudizio orrenda, che è quella di fare mettere delle telecamere per andare a spulciare qualche fesseria e provocare dei danni ai dipendenti comunali che, ripeto, nei miei cinque anni si sono prodigati in maniera tale da evitare il dissesto. Tutti gli uffici. Ma la cosa bellissima è che l'hanno sempre negato di essere a conoscenza di certe telecamere quando li ha fatti installare tranquillamente lui e sapeva benissimo quello che sarebbe successo. Mette nei guai dei padri di famiglia a titolo, non lo so, gratuito, il piccolo Robin Hood ha creato dei danni in questo paese che se si quantificassero ci vorrebbe veramente lasciare mandare. E comunque già anche nelle indagini preliminari più di una quindicina di questi inizialmente indagati sono usciti da questa indagine proprio perché il fatto non sussiste e qui c'è un danno non solo d'immagine alla famiglia, insomma un po' tutto il contesto. è psicologicamente gravissima di persone che si sono prodigate anche a titolo gratuito che ho detto sempre, che sono disponibili a testimoniare se necessario qualunque cosa a loro favore e contro questo soggetto che solo danni ha fatti in questo paese, ma ancora non si capisce. Dalciò della Cassazione quasi quasi gli ha dato ragione, lui dovrebbe ricandidarsi perché lui è un benefattore di questo paese. Conque lei più volte ha espresso... Sempre, se lui si candida io mi candido, l'ho sempre detto, anzi dirò di più, stamattina è venuta Telecolor perché interessano queste notiziole come piccanti più che altro, non a noi interessa la storia, il comune di Furci che cosa ha fatto, cosa abbiamo fatto, rinunciato agli stipendi, cose, no non ci interessa, ci interessa la pizzicatina e allora dico io vabbè. Comunque a quattro mesi dalle elezioni già iniziano a circolare dei nomi, sempre ripetitivi, comunque lei è dritto nella sua barra e al centro, il suo candidato già là in qualche modo è spesso perché è un proseguo di quello che poi avete lasciato nel 2013, lo diciamo, lo sanno tutti perché l'ha ufficializzato Francesco Riga. Sì, 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 assolutamente, è una persona capace e seria, io dicevo prima, ho sempre sfidato questo attuale sindaco a un pubblico dibattito, io, lui e un paio di giornalisti per tracciare l'escursus della sua vita politica, cominciata con la democrazia cristiana, finito col partito di sinistra con il 98 per vincere l'elezione con l'appoggio di Ventura, pegliando in giro sia me che Ventura, andando a Forza Italia c'è un escursus di una perfetto politico di lusso, comunque ho sempre sfidato a venire a parlare con me, io, lui e un pool di persone che chiedono delle cose, ma hai visto, l'aspetto sempre, al di là delle vigliaccate fatte di sabato sera, a Natale, a Pasqua e a Capodanno. Conque lei, per la giustizia italiana, resta un malvagio e un falso. Bene, con questo è tutto, ringraziamo il dottor Bruno Parisi e alla prossima intervista. Grazie a voi.